Statistiche giuste, intensità, qualità offensiva, concentrazione, ha funzionato tutto. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali e grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. Siamo ai saluti finali, grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Grazie. 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 Grazie.